Signori, oggi grazie a EA Sport VRC proveremo grandi emozioni, virtuali, ma anche reali. Questa, signori miei, è una Lancer Evo 6 RS ufficiale italiana del 1999 ex Procar Gruppo A. Ha corso nel campionato italiano, non ha più nulla di serie, quindi la lista delle sue modifiche è praticamente infinita. Per farvi capire quanto questa vettura sia leggendaria, calcolate che le Evo 6 Gruppo A hanno vinto tra il 1996 e il 1999 un titolo costruttori e quattro titoli piloti contro le VRC. Non so se mi sono spiegato. Certo, Tommy McKinnon era una leggenda al volante, ma con una Evo 6 Gruppo A come questa sono riuscite a vincere contro le auto di categoria VRC. Poi nel 2001 sono state sostituite nel mondiale con le vere VRC, ma intanto direi che hanno fatto qualcosa di molto impressionante. Chiaramente questa non è una macchina che si può guidare tutti i giorni perché ha una manutenzione meccanica molto estesa, fa meno di un chilometro al litro e un litro di questa benzina costa più di 6 euro al litro più IVA. Ma per fortuna oggi abbiamo delle simulazioni che ci permettono di guidare questa macchina praticamente gratis. Ve lo ricordate Colin McCree? Il gioco che c'è stato negli anni 90? Credo che ci abbiamo giocato praticamente tutti. Qualche anno fa poi è uscito un gioco incredibile, Dirt Rally. Un gioco che era veramente tanto tanto realistico e questo di oggi eredita il bagaglio di Dirt Rally e ci aggiunge ancora più pepe. Anche perché ora che VRC è di EA Sport hanno la licenza ufficiale FIA. Inoltre adesso utilizza come motore grafico la Real Engine, quindi insomma ha un passo ancora in avanti. All'interno del gioco ovviamente le macchine subiranno dei danni e dovremo andare a ripararli. Oggi magari su questa evitiamo di farli. Quindi adesso la accendiamo. La differenza tra la Playstation e la realtà è che se la schianto nella Play non succede nulla, mentre se la schianto nella realtà potrebbe essere veramente un grande problema. Iniziamo quindi da passeggero e poi dopo ci metteremo alla guida anche di quella vera. Sicuramente immagino che rispetto alla Playstation accenderla sia un pochettino più... Sì ma anche da guidare. Anche da guidare? Non è semplicissimo questa. Quindi mi dicevi, batteria, benzina, quadro, comando generale. Ok. Vediamo se parte subito. Bello, io c'ho anche il... Eh sì? Allora non lo devi guardare nel navigatore, mi devi dire tutti i parametri. Te lo dico io. Allora. Pressione benzina, temperatura dell'acqua, che adesso è freddo, dovrò aspettare un attimo. Sì, infatti. Il 41 sono i gradi dell'acqua e poi da quello lì serve per guardare la strada al navigatore. Ok. Sono in metro, il trimaster, diciamo. Ok, 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 ok. Abbiamo le ventole per l'aria. Ah, le ventole qua le ha messe. Però se piove forte bisogna chiuderle. Sì? Sì. Seconda pompa a benzina. Ah, seconda pompa a benzina. Sì, perché se si rompe ne parte un'altra. Ma pensate. Spray è per l'intercooler? Sì. Ok. Qua i fari. Quelli grossi grossi, quante cosa sono? Fari tre? Fari tre. Fari tre. Cambio sequenziale sei marce. Sei marce, ok. Ma usi la pressione tu? Solo per partire. Solo per partire. Quando si fa piano si usa sempre. Quando vai forte le butti dentro così. Le butti dentro così. E questo? Quello serve per mettere la retro in avanti. Perché se no magari fai prima retro. Anche perché sono i nesti frontali quindi entra subito. E se entra un problema? Sì. Ora noi andremo a scegliere la macchina più simile possibile. Abbiamo trovato una Evo 6. Facciamo una sfida rapida in solitaria. Creiamo noi un rally. Facciamo noi il campionato. Andiamo in Croazia. Va benissimo in primavera. Sette. Dai prendiamo questo. Meteo scegliamo sereno e asciutto. Perché in questo gioco conta tantissimo il meteo. Adesso lo vedremo. Ok. Confermo il campionato. Inizia il campionato. Ecco qui. Abbiamo trovato la Lancer Evolution 6. Diciamola più simile a quella che stiamo provando anche nella realtà. La livrea selezionata è già perfetta. La figata è che per la prima volta non solo possiamo andare a riparare i danni della vettura. perché la vettura si distrugge. Questo comunque c'era anche nei giochi precedenti. Non solo possiamo settare l'auto come più ci piace per modificare le performance. Infatti abbiamo qua lo shakedown. Possiamo fare per 5 volte la prima tappa per capire bene come la macchina si comporta. Per poterla modificare per poi fare il rally vero e proprio. Possiamo andare addirittura a modificare la macchina a nostro piacimento. Anche esteticamente. Come se fosse un Need for Speed. I sedili, il tipo di volante, il tachimetro, tantissime cose. Persino il team è personalizzabile con il nome, le grafiche e tutto il resto. Potremmo anche andare a sostituire, licenziare, migliorare i nostri ingegneri, i nostri meccanici che ci seguiranno durante i rally. Lo scaldiamo. Che fia, esatto. Quando entra, cioè è proprio un'auto da corsa, ma che bomba. Ma no, no, quanto spuffa già a giri bassi. Scalto un po' le gomme e i freni. Sì, sì. Distura la vita. Bello! È reattivissima. Ma quando tieni il bank, quando tu lasci il gas senti che continua ad allungare. e... Porca miseria. Bellissimo! 3, 2, 1, via. Destra 6, 50. Accendo sinistra. Chiude 3. Ok, il gioco è chiaramente molto realistico. Porca miseria. Bisogna ascoltare moltissimo il navigatore, quindi parlare diventa molto difficile. Se non lo ascolti, finisci giù dalla collina. È stata eliminata anche la possibilità di fare il rewind, quindi se vi schiantate è finita. Quindi è ancora più realistico. Allora, come abbiamo detto prima, le condizioni climatiche influenzano moltissimo la vettura. e ovviamente il suo comportamento. Adesso sull'asfalto la vettura ha delle reazioni molto nette. Sull'asfalto così frena tantissimo. Porca miseria. E tutto è di traverso. Bello! Ti senti tutto, c'è. E se quando fuori sulla terra, quello ti sa. Sì, sì. Esatto, pensa sullo serrato. va bene ragazzi è arrivato il momento di provare a fare un rally vediamo che la mia macchina è già rovinata perché ho preso un guardrail durante lo shakedown si potrebbe riparare anche la vettura si potrebbe sistemare, vedete, riparazioni, pneumatici a setto una riparazione possiamo anche farle in realtà qua abbiamo motore scarico, radiatore, tutto il resto noi abbiamo problemi alla carrozzeria ok, il danno che abbiamo è solo estetico per fortuna quindi non dobbiamo riparare niente ok, 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 meno male ho solo baciato un pochettino il guardrail ok, abbiamo 7,8 km, siamo in Croazia asfalto 2, 1, tira, destra 6, 50 accenno sinistra, chiude 3 e destra 2, 70 secca destra, lunga 30, sinistra 3, apre porca miseria che attraverso è super super realistico quindi se c'è una sconnessione e freni forte la macchina perde stabilità sinistra 4 c'è la portiera che continua ad aprirsi e chiudersi l'ho demolita beh, siamo arrivati 32 su 32 non è così male è un gioco realistico insomma e non è neanche facile c'è bisogna impegnarsi tanto però è questo è bello che c'è la challenge comunque non ha turbo lag cioè io sento che tu come appena appoggi il piede e incomincia ad andare subito madonna oh 2 finché ma col bag dove è curato giù? vai potevo partire meglio spettacolo con tutima curva sta macchina ecco infatti attraverso il culo ha toccato un po' il muro non ha l'ABS e quando freno sento molto che si impunta sull'anteriore sarebbe sicuramente da cambiare qualcosa nell'assetto perché vedete che tende molto a scodare aiuta molto nelle curve strette ma quando freni forte si scompone tanto spettacolo però quando inizi ad andare forte ti diverti il brutto ecco se non finisci di sotto poi prendi un albero perfetto e che non abbiamo fatto un danno grave perché se la macchina la rompi la rompi fine comunque sull'asfalto è troppo bello correre c'è una tenuta la macchina che fa paura se non vai fuori madonna giù in discesa poi prendi velocità in un secondo bello che spettacolo oh ma col bag appena hai buttato giù il piede è diventata elettrica tipo Tesla bello bello dura la vita, lo devi tenere benissimo a volante, ma per le asperità, è diretto e comunque i differenziali ti tirano a destra, ok, ok, bello, sentite l'antilag, 4, 3, 2, 1, via, sinistra 6, 30 e sinistra 5, ecco, ecco come cambia, guarda, mamma mia, porco miseria, c'è qua fa paurissimo prendere velocità perché poi la macchina non frena, bello, mi piace quando sfiammi, sono già diventato il dio della neve, guarda che roba, sì bro, senti anche la popola, ok, no, madonna, ok, 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 tranquilli, secca a sinistra, vai, non sono corte queste marce, oh, guarda, lasciala scorrere, vedi, lasciala scorrere, lasciala scorrere, guarda, oh, lasciata scorrere un po' troppo, dai, dai, bello di traverso, sì, cioè è completamente diverso guidare sulla neve rispetto all'asfalto, questo lo sappiamo nella realtà, ma anche in questa simulazione, bene, distrutta, dilaniata, poverina, guarda che roba, tira forte indietro, tira in volante, oh, due, ok, accenna un po', molla piano piano, vai, non troppo gas dopo, vai, ok, no, forte la seconda, bravo, ok, ma che è il freno, frena, vedi che è duro, cioè devi, è duro, duro, te lo dico, perché non ha, è duro, c***o, ma che già hai imparato, è bella però, c***o, madonna, come sterza, c***o, è duro il freno, vai, bravo, vai, seconda, seconda, bravo, porca miseria, seconda, mamma mia, ma che bello guidare le auto Tarelli? Perfetto, giro finito, chiaramente siamo andati molto più piano di quello che potrebbe dare questa macchina, ma già a livello di costi non voglio sapere quanto abbiamo consumato tra il chilometraggio del motore, che comunque sono motori che vanno a chilometri, anzi vanno a ore, se vogliamo proprio dirlo, gomme, neanche troppe, benzina, insomma va benissimo così, però devo dire una grande emozione. Bene signori, siamo riusciti a salire su una macchina veramente incredibile, una vera auto da Rally e poi abbiamo provato una simulazione. Quello che posso dirvi in tutta onestà è che ovviamente quando sei all'interno di una macchina che vibra, che fa rumore, che senti proprio sul tuo corpo il movimento del motore, degli organi meccanici intorno a te, l'emozione è incredibile. Non vi nascondo però che se la macchina è di vostra proprietà, mentre la utilizzate siete sempre lì che dite porca miseria, speriamo non si rompa, quanto mi sta costando, perché comunque consuma tanto, ma consuma tanto non solo la benzina, si consuma proprio il motore che poi va rifatto. C'è sempre la paura magari che oltre a romperla magari invece ti vengano addosso o comunque fai un errore tu. Insomma ci sono veramente tanti tanti fattori che un pochettino ti influenzano l'utilizzo della vettura, oltre al fatto che appunto non puoi utilizzarla sempre, giusto? Quindi diciamo che per i comuni mortali che non hanno la fortuna magari di avere questa macchina nel garage, o che comunque vogliono avere la possibilità di divertirsi comunque senza avere paturni e mentali, fortunatamente ad oggi abbiamo delle simulazioni che non sono come la realtà, perché non lo so se mai le simulazioni raggiungeranno la realtà, ma ci vanno tanto tanto vicine. Posso dirvi che con un buon volante è un gioco veramente tanto godibile, non facile, ma tanto tanto divertente. Io ovviamente vi sto dando la mia idea proprio dal punto di vista della guida, cioè se voi lo guidate con un volante serio è molto molto divertente. Mi è piaciuta molto anche la possibilità di poter personalizzare la propria vettura, come sapete io sono sempre stato molto appassionato di giochi tipo Need for Speed, cioè avevo giocato tempo fa sul canale e quindi avere anche questa nuova libertà per me è stato molto piacevole. Io apprezzo tantissimo il rally ma non sono un grandissimo appassionato nel senso che non so benissimo auto, team, piloti, ma se siete come me, sia che siate appassionati e conosciate benissimo tutto il mondo del rally, sia che vi piaccia solo questo mondo, come piace a me, è un gioco che vi consiglierei di provare perché credo proprio che ne valga la pena, soprattutto perché non è facile e quindi ti dà quella challenge che ti fa venire voglia di continuare a sfidare te stesso per migliorare e fare dei buoni tempi. Io vi ringrazio per essere stati oggi qui con me, spero che questo video vi abbia divertito e che dire magari ci troveremo anche online per qualche sfida proprio su EA Sport WRC. Non si sa mai, io vi aspetto, un saluto. Grazie.